Siamo senza Gravis, quindi andiamo durissimo Allora, andrò a fare il mio posto e direi bye, ci vediamo Quando io ero mio capitano, uno dei miei eri domani mi costruì rispondele Sono state sottolineate i rispondri Ma io sono pagine che i ragazzi Ma il rispondimento si è riuscita a fare il mio posto E i rispondimenti che sono riuscite a fare il mio posto È un posto di rispondimento È un posto di rispondimento Allora, a fare meno per la sua Non, voglio combattere le persone se non vado errato ok c'è una cinvent per beccare 10 oggetti andateci conto si ci provo 1 2 3 4 5 6 7 9 9 9 9 9 10 preso il mio volto e il mio scudo che è un meme del 40k my face is my shield bellissima comunque questa sessione è bello ci stiamo andando a fuoco perchè stiamo rientrando stiamo facendo rientro per bitare a mano ah è quello rotto dalla squadra ottimo ci sta ci sta quindi hanno fatto nel momento stiamo facendo una discesa bello bello bocciazzo è quasi scenico come uno degli ultimi livelli di armor core 6 che rimarrà imbattuto però siamo lì adesso vediamo è quello ritro devi giocare è appena si è nel backlog il backlog è il backlog avevo detto appena sarebbe sceso sotto i 40 euro adesso si trova tranquilla sui 30 credo appena c'è del tempo gli ermetti è perchè siamo eroi quindi dobbiamo combattere senza ermetti vaga che cazzo è quel lavoro lì roba brutta del caos ah ma siamo siamo con i oh thunder hammer oh thunder hammer giù anch'io ce l'abbiamo tutti ah 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 thunder come si chiama l'ambientazione warhammer ahhh ah 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 ahhh ahhh Nooo! Eeeem! PAM! Che cazzo è lento! La vicinità è uguale, no? No! Di movimento? Martello? No, c'è martello! Ah, perchè è un cazzo di... È un Terminator, ha bisogno di più corpi! Ah, è quello grosso, l'avevo visto. Ah, fa il culo! Ma quando hai il martello sono tutti uguali, cioè... C'è? Cazzo. Ah, basta, non possiamo passare di qua. No, dice, dobbiamo ammazzare... Ammazzare la gente che c'è. Perchè dà l'energia alla barriera così c'è. Allora la gente? Eh, le abbiamo rimaste qualcuno indietro. Oh! Ah, è vero che dobbiamo mettere... Dobbiamo puntare quella cosa con... D'Elasa! Siamo in giordaglio! Rapporti il status! Allora... Plasma Incinerator! Eh... Fugia a Plasma! Però c'è il giordaglio sta da voi! Perfetto! Da qua! Sta nella... Ah, bene! Ma che fucile termo! Ma che fucile termo! Mamma mia! È lento! Non mi piace! Io vado a sinistra! È lento ma violento! È un po' com'è... C'è poi dipende, per esempio nel del ring anche io prendo sempre gli spadoni o gli armi così, quindi... Ma io gioco tutto in realtà... Cambia poco! Però il Bungerun è il Bungerun! È un martello che esplode, per il cazzo! Ma io adesso... Opetta che ti sono stato brazare... No! Ma io sono preso! Il Bungerun è giurta qui, non? No c'è un piatto! Non c'è un piatto Ma dove cazzo siete? Ma vado a raggiungervi adesso Ma cazzo l'ho spawnato qua Cazzo E sono spawnato la tappata della mappa io E' incredibile Oh cazzo, sono andando giù No cazzo no Siamo andati giù noi E' arrivando Io mi sono stato buttato fuori Eccomi Hai salvato il culo Ah, eri esploso In quel senso lì E' proprio volato fuori Ti ammazzo tutti quanti Oh dio canto Dov'è l'altro? Dai che devo restare Andiamo qua Ah Oh E' perchè c'è lo stregone che sta sparando come non sesso Buona gatto Eeeetca way Come salva la situazione Biondo Via Ah eccolo là L'ho macchiato C'è il doppio salto di thunderhammer C'è il doppio salto di thunderhammer Sì E c'è un altro thunderhammer qua per terra Prego Eh potessi avere due Sì Dua weirding Dico willy thunderhammer Non è vero L'impact sarà distruttato tutta l'area Ah ecco perchè non riescono a distruggere poi dicendo dallo spazio Cioè è tutto fottuto Procedi con corso Talassin, siamo quasi arrivati, qual è il tuo status? Il giocatore sippere, ragazzi Guardate il nostro signale No, no, no. Eh, sta evocando qualcosa di brutto. Ok. Mettiamo il beacon. Nelassa, trasmettendo il signal di target, ora. Il tuo signal non registra, ma lo vedo. Il tuo data è clouded, l'ha detto. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Vespasi, no, è l'assalto. Sì. Vivano. Ah, cazzo. Terminetolo con aranciamissi. Ma, puttana vacca. L'ha arrivato. L'avevo fatto abbastato, però non è bastato. C'è una ferita, quindi si è schiatto, vado. Che modo? Mi spara, ma tutte le. Mi sta un po' più attento. No, no. Così si risolvono le cose. State a far culo, tutte e due. Ok. No, cazzo. Ahia, che cazzo 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 cazzo. Ah, ma è uno stregone. C'è uno stregone, è un togo. Eh, scusate, era ma l'avevo ammazzato. Ah, l'avevo ammazzato. Ah, l'avevo ammazzato, è morto, è morto. Eh, c'avevo la ferita e non... Oh, 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 oh. No, che l'avevo ammazzato un altro. Sto facendo strage. Eh, sto... Non mi ci trovavo tantissimo. Sto facendo strage. Con il martello, eh. No, non per il martello, per la... Eh, come fai? Per il martello è perfetto. Sì, 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 sì. E vado a uccidere subito là sopra quelli che compaiono là. Così. Sì, definiamo la... La. Beh, se ce l'hai tu, però fa proprio senso. Dig in. Siamo spostati dal l'antreo, è un'attività. Non avreremo una sola stessa. Non deprime di noi di vedere questo tipo di 64. Sì. Non rispite dal l'antreo. Siamo spostati dal l'antreo. Ti asuprime di noi. Vi... Vi... Ti asuprime di siu... Sord of Atreus primed and locked in Drop target now Recruiting signal data through telemetry systems Numerous errors detected due to signal interference Calculating trajectory Roku Jump back engaged Launch Palazzo I've lost their boxicle Interfuse It could be Ow ow Come on, buddy Go I hear engines There The sword of Atreus lives up to its namesake That will buy us dying, but we must move swiftly Baca Ha funzionato Atevato a nave addosso Ah, siamo in una terra Fa la potenziata, cioè, volendo Si Si C'è un'applicazione, o qualcuno di altri. Qualcuno sia, non è sanitario da Adeptus Mechanicus. Prendete un stop. Sì, Capitano. Sì, Capitano. Sì. 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 bero esoso. Legge. Sì. Ancora fanno più il salto cazzo ecco perchè sto provando a salvare Non ho dato lo vero Abba un culo vai Ma è lìo Ecco Ma è lìo Ecco Ecco E' lìo Ecco Mi sembrano comunque i cosi di Doom eh Quelli che rompi C'è? A noi non lo sentiamo Voi non state sentendo nulla no? No Io sto sentendo l'audio C'è lo stregone che sta parlando per cercare di... Armi Figa come cosa Vai Cadiani sparate Fanculo nessuno resiste Hai martelloni? No nessuno Ha la mia ultima I martelloni Ah abbiamo fatto... Campamento qua in zona Buono Che frettino pensavi di fottermi? Mh Fa il culo Ciao caro Che fattici Eo Ha un asunto Un quarto Voi Si No Questo non è il centro del macroeppolo di un meccanico No Un centro di scavazione In niente Niente Il nostro centro è alto The Tick Sight Ma che c'è uno scontrino del Conad lì dietro sulla schiena I scontrini sono importantissimi C'è un Atoplasma Incinerator, qua se lo volete No, se no Eh, vacca Oh, vacca Ma cavanto Ah, fa' il culo, vai Gli attacchi caricati sono una meraviglia, comunque Eh, mister lanciamissili Visto C'è un po' di gente qua Ci sono due mister lanciamissili Ulto Uno sta uccidendo Ok, l'altro ho preso io, il missile prima matura Eh, tu hai evitato, stronzo No, vabbè No, c'è un altro di cazzo Ma c'è un altro Ma c'è un altro Va bene Ma stiamo anche te Che problema c'è Ah, c'è un altro di cazzo Ah, c'è un altro di cazzo Il campione, come vi ho detto, viene recuperato dal marina in Bortgan. E poi lo dai mano a un inquisitrice. Ah, devo azionare la mano. Non c'è un signo di vita in questo mondo. È un luogo di bambino, ragazzi. Reservato per i morti. Loading us. Loading us. No, ciao. Microbial index reduced to 0.01%. Dissector C. Ma sai che è quasi quasi. Ah, ok, vai tu. Mi prendo comunque l'altro. Mi resta un martello. Ma che è melt a martello secondo me. Il melt è per la mia vanguard. C'è un cecchino qua, Elio, se lo vuoi. Ah, vai via. Ah, che bella è lì. La spaglianza della Headwatch, direi. Ah. 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 Passa all the way to the Aurora device. We know not what secrets this old stone is, but we know not what secrets this old stone is, but we know not what secrets this old stone is. The stone holds. I only ask that it holds our weight. Well... It's hard, it's heavy. Oh, I'm scared. Oh. Oh, I'm scared. Oh. I can't believe in this. Oh, I'm scared. Oh, I'm scared. I can't believe in this place. I'm scared. Oh! va al culo eia dove cazzo è arrivato questo? c'è uno di quelli grossi eh ah c'è più di quelli grossi ah lo sento io adesso? no questo mi sa che è per tutti lo sento anch'io eh no, no 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 non sai cosa del Bruderhood Lieutenant più tratti di gioco uuuuuh yes ha ah il gasfusil e il fusil uuuuuh non c'è nessuno, non c'è nessuno D'accordo, c'è nato. pensano di fare gli umani base mi sacrificassi e diventare sperare nel cambiamento anche quello ah poi andiamo a questo allora quello con lancio granate adesso io muoiz scatolone mi sa ce l'abbiamo tra un po' adesso vediamo è assolto i proiettili di un'andata dai uno stregonino su tu è andato cazzo aia cazzo è andato aia 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 cazzo ah un achievement ci dimostra uno stregone del caos inferiore mentre sta cercando di resuscitare un marine rubricante Cazzo! Non sapevo che potesse suscitare C'è un altro sorcerer là Ah, è in murata Phantom, perché installare Aurora deep within queste ruine? Perchè era già qui Come? Un relico dell'antica tecnologica Questo è Harrison E non dovresti invocare la trattura di Mars Questa vera quest per sapere Tra un po' arriviamo, mi sa Anche perché ce l'ha già scritto Braxton nel quando avevo visto il documento Allora... Vabbè, l'amo mi serve Ah no, qua si va davanti Di là Di là non si va avanti? No, c'è... E qua ti va avanti? Qua e qua nel blu di blu di blu Ci vediamo Prendiamo l'elevator Ah, una bella difesa mentre l'ascensore arriva Adesso ci arrivano i gargoyle e i tiranidi Bisogna difendere i pilastri dell'ascensore Eh, il gas fusi funziona Merda Nooo Non è un giro Non è un giro Non è giro Non è il giro Un giro Che Le cazzo di carri Mi serve un medikit, sto per morire Un medikit Da cazzo m'ho ucciso No vabbè No, non sono salgato con la mia stessa granata Mi che c'è un po' poco a lì d' Qu'è se ha ribaltato? Ah, non è vero che non è vero 30 minuti dopo ecco i quattro ok stai qui i necro ah se è spento è spento quindi i necro escono da qua i necro praticamente hanno dei mondi tomba e sono dentro questi mondi se si risvegliano escono da qua ma però è come un uovo di pasqua finché non lo apri non sai che sorpresa c'è bene più o meno si perché può essere rotto non funzionante vuoto pieno di merda perché necro non c'hanno sti cosi sti pironi questo materiale che è in grado di spegnere il caos o amplificarlo quindi e se lo sono tirato fuori perché combattevano contro gli antichi che erano solo fatti di caos cioè di energia del warp e sono quelli che hanno creato gli orchi e gli erdal per combattere i necro quindi vabbè tutto questo gli umani stavano tipo scopando sulla terra e basta neanche perché c'è titus eh perché caos cosa e qua dove non no scemo no mi seguo l'armatura ma gli spari no è stato nervoso ma gli spari ma gli spari ci siamo aspettati molto a farlo a farlo a farlo a farlo cosa fare con l'artifaccia una volta che hai lo scemo se non ha l'effetto se non ha l'effetto perché non lo usare il tuo padre suggerisce l'arico non ho detto e non ho detto che gli spari avete eserito qualcosa voi no destroy qualcosa eh no mi ha detto c'è Gary che dice ma se a te non funziona perché non lo usi e lui fa mmm eh bello 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 piace un sacco sta cosa a 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 Quando è che sentite la luce dell'imperatore ogni volta che si viaggia nel warp? Poca puttana. È letteralmente un faro enorme. Se gli archivi devono essere credibili, ci sono più mondi che dovremmo provare. Spero che tutti sanno scegliati e scegliati a cindersi. te lo lascio giustiziabile senza armatura ma porca Fai un cuore. C'è un po' Eh si, sono pezzi nei conno di vecchio Eh si, sono spenti diciamo Tra l'altro sono quasi tutti diciamo scarabro derivati quindi sono gli scavatori manutentori Se non si, sono spenti ovo sta dietro col martello che si vedi la hypocrisiesa di Nikea avete fatto la stessa scurita come le mille di soldi si chiamano un hereto per dare a ottenere il stesso potere come il tuo diario a sacrificare le mille di soldi per partire il il tuo trono Sfasato e redpigliato Sfasato e redpigliato Sfasato e redpigliato ma c'è anche uno stregone lì ma infatti quello là quando ha detto nikea è un concilio durante le crociate dove praticamente l'imperatore faceva di tutto per tenere caos e warp segreto solo che i marine come gli umani c'erano quelli che usavano i poli psionici quindi viene fatto questo concilio dove vengono banditi i psionici dagli space marine e i taus and son che erano solo psionici praticamente c'erano un po' super cool insomma perchè l'imperatore l'ha detto no un attimo che cercano nizze eh poi da lì andando avanti a che che sia poi sono stati aperti tutti i librarium e i space marine psionici sono diventati standard per quasi tutti l'intanto credo che è più avanti se dobbiamo combattere troviamo le moon e vabbè lo attivo una volta che siamo vicini ok clic clac ma davanti è sul tempio necron proprio ah beh si perchè se deve attivare però gli sono bloccati quindi finalmente adesso sta funzionando come inibitore oh no Ktan è il boss finale e questo qua che c'è aveva detto che aveva fuggito no? era sceso sul pianeta tu dovresti parli di questo tu dovresti parli di questo sire per favore io lo so che hai consapevole ma guarda questo è solo un tasto di ciò che il dispositivo è capabile e ho visto il peggio di ciò che può fare ok ok ma non basta che cazzo è il dreadnought ma del caos è bellissimo c'è un panderander come mano si questo era il plasma nell'altra è il brutto si e porco tu sei già morto Elio voi due ce l'avete la ferita quindi perché scusate avevo un'aura rossa eh perché l'ho marchiato cioè nemico evidenziato perché l'ho marchiato dobbiamo corrare con il tasto eh il dolore ahia il mare il mare il mare oh ma che è un herbo di zin cioè quindi c'aveva la ferita quindi non l'ho piantato per terra poi è esploso tutto è forte è forte ragazzo beh a meno adesso ci abbiamo una oh porco posso dire la cosa razzista eh no non la dico non la dico però sono i cattivi dai ha senso se i cattivi sono razzisti o no ci sono prima il nero esatto si 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 sta scagliando si sta scagliando prima su di te ahia poi su di me cinese esatto esatto ah beh i cattivi ci sta che sono sono così ho finito le mumme mi ha rovinato ho notato ahia anche io sto un po' finendo le mumme guardate me le nemiche le mumme oh god eh no eh no eh no eh no eh 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 oh cavo prasma prasma no prasma no prasma no mattelone no l'ho stunnato l'ho stunnato con l'urlo guarda come pare i suoi colpi mele cazzo oh te piglia di ste martellate può stare da lì posto in te eh no vabbè con l'abilità quindi ho detto però è finita probabilmente stavo la c'ho l'ammazzo 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 vabbè 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 è successo l'ho preso io l'ho preso io non è il boss finale vabbè 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 la manifestazione perché lui essendo uno stregone del caos non è propriamente manifestato fisicamente quindi ha attivato il coso e lo stregone è tornato nel world vabbè 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 è morto Il pensiero di essere incroberato! Vabbè, molto bene, dei standardi! Spish! Ioink! Va bene. a lui voleva attivarlo per spegnere ad attivato per aumentare perché gli hanno cambiato i dati nel programma e cazzo la stringa ha fottuto tipo asile ha messo in meno bene metto meno così spengo e accendeva ci sta è perché sti cosi funzionano in entrambi versi infatti su quei che hanno causato l'apertura della cicatrix my dictum perché stavano per chiudere il cadia stavano per chiudere l'occhio del terrore poi sfondano il pianeta e fa l'effetto opposto e quindi si apre a quei va avanti si si la missione qua è dritta avanti avanti da nozic andiamo a credere che sarebbero lo stesso per perdere e quindi lo portavamo precisamente dove vogliono e questo spettacolo nei catacombs Deceito, per tracciare quella poppetta a perdere in finire il lavoro è il pirone che sta dando un attimo su che devo fare una volta Riccardo ti devi levare, grazie beh l'ho fatto anch'io lo screen non so se usare questa missione è totale chi sono questi? ah no sono dei nostri sono i cadiani che sono rimasti qua questi stanno impazzendo tutti eh fa vedere? c'è questo che sta a terra che si tiene e vabbè ma questi sono più atti all'occhio del terrore eh però qua è un po' pesante non sono deboli i cadiani adesso li giustizio io no no te l'ha detto ci pensa il commissario e infatti non mi fidano tutto questo i tirani di ma i tirani li abbiamo ammazzato il cosorveare ci sta che sono secondari anche perchè era una sprinter e non era l'invasione principale va 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 e che percari ha andiamo 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 dal nostro sconsese di fidu per l'architetto del fato oh dio che paga che stai raspa che torna non che c'è non che si c'è ma io non lo spreco i gatti ahia esi è spesso di un attimo sono più pisti da sopra mazza il cecchino là in alto già fatto e si teletrasporta vabbè adesso gli arriva in bosta si teletrasporta poco boh si teletrasporta più ma a che servono ste vocalicamenti finti per spezzare la logica del livello sta facendo ma che demoni amico mio io spero che se le sputti fuori un demone io lo si io l'inco ah Bacca quanti sacchi Beh questo diventerà tutto cibo Per i meccanicus No per tutti perché Gli umani quando sono in guerra mangiano I cadaveri delle persone morte Rifatti Ma questo non lo sapevo Si si chiama Corp Stash E praticamente se muori il tuo corpo viene utilizzato Come fertilizzante o come cibo Ah gli hanno sparato anche È una magica Molto grande in realtà Dove è il waifu? Ah ecco qua Procedi through those doors We make an assault eminently Ecco che mi piace Akran come capitano C'è molto meglio di Cato Sicarius Io Cato Sicarius Ah c'è il sermone signori C'è il sermone Oh il capetano C'è il sermone Cosa 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 Per cui calci Per cui traducesi Ilónight Cosa 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 ma che cazzo sono sti cosi scusami sono dei cherubini ma che cazzo ma che schifo sono allora se un bambino muore ed è ancora sano possono trasformarlo in questa cosa qui per continuare a servire l'imperatore nella sua morte altrimenti sono cronati si spera nella seconda considera che nel libro quando si sveglia e li vede e fa anche lui ma che cazzo è sta roba perché non c'è un E30k e lui sono più buoni e infatti anche lui ha dei dubbi ma in realtà questi qua sono ancora sopportabili gli ultramarine hanno anche 500 mondi che sono il top no ma io il fusivo va bene bella bella ma fa un sacco un sacco di mare bella raga andiamo oh cazzo ciao gadiani è stato bello bacca ma siamo con tutti marine bello e siamo col capitano tra l'altro siamo col capitano tra l'altro nooo eh ci stanno bombardando ah c'è sei non c'è Voi provare speciale le tattiche! Quell'occurso il obelisque grantere gli enemy unimitante manoeuvrabilità. Hai considerato Exterminatus? Questo è un mondo morto, Titus. Se non perderemo il enemy, allora mi prenderò questo posto. Ma io preferisco non perderemo questi uomini. Can i nostri scambi trovare la signatura della sua source? Siamo blindati da tutte le interferenze. È fuori, nel cuore di quella profana. Aspettato. In un modo o in un modo, dobbiamo arrivare a questo obelisque. E poi lo proviamo. Ok, coperto di sangue il capitano. Ah, due rimangono indietro. Così. Cacca. Vai ragazzi. Ci sono anche dei decadiani, penso. che bello. Madonna quanto cazzo celoturismo. Andiamo, buttiamoci in mezzo. Allora. 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 Arrivederci. Non ci sono 10 di nostri ragazzi dovrebbero fallere. E con il standard, non riesco a capire il compagno che il compagno è diventato da pezzi. Ultramarineri non fallono senza un combattimento. Sono vivi. Ci sono bisogno di supporto. E noi dobbiamo riuscire a intervenire. è tutto a quadra il mio fusile il mio fusillo faccio più danno il multimenta metà è finito no Yoink Ti manca? Eh, io stavo vedendo un po' in giro se c'è qualcosa Oh mio Dio! C'è un huacca All around the standards Victory Or death Yes, sir It's going on to death Second company We hold this ground in the name of the Primer Eh, cazzo, eh Wow, come bene Questo è l'hardwork più famoso di tutte 40.000 Dei magli, dei magli scarlatti Tutti intorno allo stand-up a combattere e sparare Non c'è l'ingegno C'è l'ingegno C'è l'ingegno Ma dovremmo trovare Non c'è l'ingegno Non c'è l'ingegno Non c'è l'ingegno Non c'è l'ingegno Cos'è? No... C'è il grande buffo!! Cosa?! C'è il grande buffo! C'è il grande buffo Chi cazzo ha quello lì? Ma non ero Skargar? Il capo degli ultrabuffi Fai Mark No no no, lui è mai sto capitolare Il grande buffo Cazzo è venuto qua Eh è arrivato il messaggio Madonna è il grande buffo Lui era pro tarmo più alta di tutta l'ambientazione Quindi non possiamo perdere No 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 Sì, ragazzi, i heretici chiamano per una ricetta di vittoria, ma noi li dovremo aiutare a questo giorno, come li dovremo aiutare per 10 milenni. Sì, siamo i figli di Ultramar, servizi per l'Empereo e guardiani dell'Empereo. Lasciano questi uffici sentire la morta degli ancienti Vajjans! Le armi sono bellissime però! Tutte le forze, avviate bene! Carri armati, cose! Tutto! E tra l'altro poi gli ultrapuffi che sono forse tre meno automaton di tutti. Mamma mia! Il Ghiriman è l'unico che pensavo a cosa far fare... Oh cazzo! Avviate bene! Vacca! Che cazzo ha quel lavoro lì? Demone! Molto grosso però! Vai, ammazzati tutti! Vai! Oh, vacca! Vai! Sì! Ah, siamo arrivati alla prima... A prima costa azione! Qua di fianco Sì Uggio Aiutatelo, no? Vedi, ce la fai ragazzo, ce la fa, ce la fa Oh, colore verde e negron Adesso si svegliano Faccio Oh no Ah, vedi, vende più piccolo Oh no Che ignoranza e guanti con sotto le armi Madre, mi sono i top No, non ci sono Perché l'altra è con dei tiranni Scusa che fossero queste qua E' una lavanda da spegnere i cosi No Non c'è Ah, aveva un sacco di sirenso You need to rotate the small replica of the obelisk But be warned It will hurt Not as much as it will hurt the treacherous bastards out there Pain deepens devotion Oh no Sto strano Mi aspettavo che fossero la quarta e la quinta Cioè, scusami, la settima e l'ottava missione Forse ne aggiungeranno Probabile perché è veramente Però ci sta il fatto che dice Ah, dobbiamo fare tre obiettivi bene Una squadra per uno Noi andiamo all'altro Via Una cosa che oggettivamente pochi Mi ha devastato Non ho notato che si è esposo Eh, due terminator insieme Mi hanno aperto E vedo se pulisco un attimo e poi arrivo, eh No Già, ce ne sono tre Eh, ho notato però Questo solo io Quello che mi ha devastato Non me ne aspettavo tre Ne avevo visto uno io Oh, vai Bennezza Muoio, mi sa Muoio, muoio Muoio Non sa morire Tanto è che ho fatto un altro E c'è questo qua Ah, ok, no Ura, ecco, uno l'ha distratto lui Perfetto Quindi comunque vuol dire che adesso abbiamo sia la seconda che la prima compagnia Cioè no, no, la prima no Perché Karka ha le sue forze dedicate Sì, è proprio lì di venire Perché altrimenti dovrebbe venire con Agamennon Agamennon Agamennon, che sembra essere C'è ancora qualcuno da uccidere Sì, c'è ancora qualcuno da uccidere C'è ancora qualcuno da uccidere Non so Ok La sua fila pagata La sua fila è pagata, ok? Sì Poi ci sono anche tutti i mezzi cagliani in aria, bello Oh, c'è un vecchio Predator Bella, bella ragazzi, sono arrivati tre assalti, beh, guarda che belli No, questo è un hammer, guerra totale ovunque Che meraviglia Passiamo a questo, ecco me, scusate E' quello là grosso lì, in mezzo c'è un Terminator Gli spari sono così, è un Terminator Oh, c'è un po' Oh, c'è un po' Oh, c'è un po' Oh, c'è un po' Oh, figa, un altro Eh, sì Eh no, vabbè, ma Ogni volta Dio che sberla Oh, c'è un po' Oh, c'è un po' Parato No, non parato Aia, che botta Mi sa che ero nell'aria della UE Ancora, c'è un po' Ancora metà vita Ancora metà vita, sto stronzo Eh, non c'abbiamo Cioè, il gas fusile è buono Ma non c'abbiamo altre armi pesanti Cioè, hai tante gambe che ti voglia Parato Parato ancora Parato ancora Oh, cazzo, cazzo Oh, cazzo No, cazzo No, porca troia Pai, tu, 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 tu Baffa, il culo, stronzo A cinocchiate Ok Ah Titus, Desimus ha un hold On the obese controls Thrown, that looks like torture But he is holding fast Oh Rattro, la star Rattro group ha fatto l'altra Perfetto Demen is further weakened Miridium, how is Decimus? I have a murderous headache But the sight of that beast railing is a fine tonic It is indeed Permission to join the frontlines? Granted, my thanks brothers I'm going to be with you Granted, out One more One more Do you hear that? Oh my god Oh my god Oh my god Mio fratello, mio fratello, lui. Lo adoro già, lo adoro già. Come si chiama, Valtus? Ce l'ha scritto sulla capocchia, sulla testa. Sulla capocchia? Eh, sul sarcofago, dai. Stessa cosa. Sì, vabbè, adesso ci arriva Magnus, siete fottute. Coglioni. Eh, contro Magnus ci vorrebbero i rupacchiotti. Che sono all willy, dedicati a fargli il culo. Oh, cazzo, vabbè, eh, no, niente, niente. Avevo la ferita. Avevo la ferita, ho tirato su aereo, ma mi hanno ammazzato i Terminator. Avevo l'antò. C'è io, eh. Avevo qua. Eh, lui sa giocare la spanda, tutto. No, avevo dei missili, poi eravamo altri. Sì, credo che c'è stato. Sì, perché questo Ceramide non può scegliere da mie rai. E' un po' fatica qui Eh si sto vedendo anche a me sta un po' Tirando le cuoia Eh ma siccome qua la risoluzione dinamica ce la faceva pure Però se la metto a me pagga l'ultra wide quindi non la sto usando più Va bellissimo E' altro fatto prendere 7800X3D No però credo che sia proprio Settaggi grafici che secondo me ne ho messi un po' tirato Ok 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 Vabbè Mio Dio cosa fa, cosa fa Oh mio Dio Eh vacca Oh mio Dio la cosa più bella del mondo E' perfetto eh No lui è a perfezione Tornno abbiamo mezzi antieri Prendi una statua e li la tira addosso Però guarda, guarda lui che furba Che usa il braccio robotico per girarlo E' perfetto di lavoro Guardi a mia posizione Let us burn these heretics to us Si, mio Dio Guardi a mia posizione Guarda la porta armor Guarda la porta armor Guarda la porta Proprio come i meme E' bello La portiamo di calca che si materializza in forma fisica Come dicono come dice un saggio calgar cazzo di tuono Qui si molto Siamo in una sorta di Guarda che figo di orami Guarda che Che bravi Mi ha intanto il mio thunderhammer Eh siamo si siamo Ma che figata Il rhino Madonna adesso vengo Di apro in due Ma che meraviglia E va Guarda qua con i mezzi volanti Tutto Che esplode figo Oh no Brothers Save me Save me Oh brothers I hear them Do not trust your senses Lord Calgar left you to rot in the death watch for a century I hear you Brother Titus Coward She's cowering behind illusion Make a bulwark of your hatred brothers I hear youЙ Oh Oh I hear you Oh I hear you A Very good No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Oh, no, 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 no Esiste Allora, questo è meglio rispetto al boss finale del primo gioco Questa è una figata atomica Non mi ha tirato via me, che peccato Va bene Nerud Ah, ce l'ha Ecco perché voleva carga, perché ce l'ho lui Ahia Easy Ah, tornati indietro, ok Guarda come li ho schivati tutti, sono un maestro dei souls Infatti nei souls neanche schifo, ma di solito tanko Perfetto Perry Perry Doppio perry, triplo perry Che cazzo è andato? Mi sa il nuovo occhio da far fuori, mi sa, si Ok Non mi ha ciucciato nel buio, è morto troppo presto Ok Non mi ha ciucciato nel buio, è morto troppo presto Perfetto 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 Oh ok Perfetto E Stinen Perfetto Mi lascia In queste ejerci Non mi ha dovuto quello che decente Svere Sì, perché brilla di luce propria, Kalgar? Perché... la portammo! Perché è cazzo di tuono! Per cui è cazzo di tuono, sì! Ah, il cazzo è una piramide di tuono, eh! What the fuck? Cazzo! So, we must make haste, brothers! Ok, ok! Those Martian fools! They had perfection in their grounds! But one did it imply, didn't it? It flows through me, in ever-growing waves of revelations! This is... Yes! Yes! Ha 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 ha! E' un po' che mi sta sparando, non mi ha corrido E' anch'io E' di colpi cazzo E' un po' 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 di colpi cazzo Cazzo E' un po' di colpi E' un po' di colpi E' un po' di colpi cazzo 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 Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Ma va che guerra va Ok adesso Entusiasta proprio Grazie Grazie Oh Oh Leandros Leandros Grazie No ma io Le ho detto fin dall'inizio che avevo il sospetto che fosse lui Beh però ci sta per quello che era ragazzo per il codex però lo rendi cappellano Va Vai 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 Grazie a tutti.